Oggi parliamo del libro di Franco Fontana, Fotografia creativa, corso con esercizi per svegliare l'artista che dorme dentro di te. Il libro ha la copertina morbida ed è diviso praticamente in due parti. Nella prima parte Franco Fontana, che non penso abbia bisogno di presentazioni visto che è uno dei più noti fotografi italiani, presenta la sua visione della fotografia e racconta un po' la sua storia e i suoi progetti fotografici più famosi. Nella seconda parte Fontana propone invece una serie di esercizi fotografici molto interessanti per, come dice nel sottotitolo, cercare di svegliare l'artista che è dentro di te. Vi voglio mostrare un po' di parti del libro, proponendo come sempre un po' di takeaways, i concetti chiave che mi sono appuntato durante la lettura e che esprimono la visione della fotografia di Franco Fontana. Poi parleremo un po' dei progetti più famosi di Fontana e infine degli esercizi che propone. Partiamo quindi dal capitolo lo zen e la fotografia, quello che ho imparato sull'arte, la creatività e le immagini. In questa parte Fontana racconta la sua visione della fotografia. Una delle frasi secondo me più belle è questa. Quando qualcuno mi chiede che macchina fotografica uso, mi picchietto la testa con un dito, sorrido e rispondo. Questa. Non è la macchina fotografica a fare le foto, ma la nostra testa. La fotocamera da sola non fa niente. Siamo noi a decidere dove puntare la macchina, cosa inquadrare, come e soprattutto perché. Le fotografie sono frutto del pensiero del fotografo, non della sua attrezzatura fotografica. Bisogna fotografare quello che si pensa, non quello che si vede. E per collegarmi a questo concetto vi mostro la dedica che Franco Fontana mi ha fatto sul libro durante una Lectio Magistralis a cui ho partecipato nel 2019. Ciao Riccardo, continuo a fotografare quello che pensi. Secondo Fontana, infatti, si scatta con la mente, non con le dita. Perché l'artista non ritrae la realtà, ma cerca di piegarla al suo pensiero, la interpreta. L'artista, fotografando, inventa soggettivamente la sua realtà. Non dovete cercare di riportare la realtà per quella che è, ma offrirne un'interpretazione. Ad esempio, in occasione di questo scatto del 1970, Fontana racconta che erano in quattro in Puglia per fotografare la Baia delle Zagare. E di fronte al medesimo paesaggio, ognuno ha scattato in modo diverso. Renzo Cambi fotografò un paesaggio in bianco e nero. Altri, una donna in bikini sdraiata al sole o il faraglione davanti alla costa. Fontana ha invece scattato a modo suo, secondo il suo stile che lo rende ancora oggi riconoscibile. Interessante il fatto che quando parla di alcuni suoi scatti, inserisce anche degli aneddoti o dei dati tecnici sulla foto. Io personalmente ho apprezzato molto questa cosa. Con le impostazioni giuste, anche una scimmia può fare un ritratto. Questo per dire che la macchina fotografica possono usarla tutti, ma vogliamo rimanere scimmie o provare a dare un significato alle foto per quello che siamo? Altro concetto espresso da Fontana è che è inutile copiare i grandi fotografi se si è altro. Meglio provare a capire chi si è, cosa si ha da dire ed esprimersi di conseguenza. Una delle strategie migliori per vivere felici è dedicarsi a quello che ci riesce meglio. Parlando dei suoi inizi e di alcuni suoi progetti, Fontana spiega che la fotografia è un pretesto per andare alla ricerca delle proprie radici. Si può decidere di imitare gli altri o identificare se stessi per ciò che si è. Infatti non si può piacere a tutti. E non esistono foto oggettivamente belle o oggettivamente brutte. Esistono foto che possono piacere o non piacere. L'importante è che le tue foto piacciono a te, che ti identifichino per quello che sei. Ognuno di noi non fotografa tanto quello che vede, ma quello che è. Il fotografo non va in giro a cercare come un turista, ma a trovare quello che ha dentro di sé, come un pellegrino. Il pensiero creativo non si accontenta della quotidianità che già conosce, ma rompe le regole, si apre a esperienze inedite, cerca risposte nuove. La creatività si nutre di immaginazione. Con la creatività il fotografo può rendere visibile l'invisibile. La creatività è come un muscolo, va allenata. Fontana parla poi della ricerca del vuoto. Per creare qualcosa di nuovo, bisogna fare il vuoto intorno a sé. Solo rimuovendo quello che c'è già dentro di noi, possiamo fare spazio alla crescita, senza rimanere ancorati al passato e a quello che sappiamo già fare. Secondo Fontana, esiste un momento in fotografia in cui l'artista intuisce dove vuole andare a parare. Lui la chiama l'intuizione creativa. Per spiegarla, racconta la storia di questi scatti del 1985, fatti per un servizio sulla Ferrari testa rossa. Aveva a disposizione un intero giorno a Riccione con un collaudatore per fare gli scatti. La marea era bassa, c'era un cantiere aperto e debba l'idea di portare la Ferrari sul lungomare. Qui inizialmente si focalizzò sul fotografare la macchina con il riflesso nell'acqua. Ma poi passarono per caso dei ragazzi con un cane d'almata, bianco e nero come le rocce frangiflutti sullo sfondo. Il cane iniziò a girare attorno alla macchina e da qui nacque l'idea di questi scatti, che furono molto apprezzati dal commendatore Ferrari. Il concetto è che l'arrivo del cane è stato un caso, ma Fontana, una volta capito che poteva essere interessante, è riuscito a trasformare il caso in un fatto. Altro concetto interessante è quello del cancellare per eleggere. È importante cancellare il superfluo per eleggere solo ciò che si desidera. Fontana, quando non riusciva a farlo direttamente in fase di inquadratura, lo faceva dopo aver stampato le foto, ritagliando e poi ristampando, in modo da cancellare il superfluo e deleggere solo quello che gli interessava. È il caso ad esempio di questi scatti sulla sinistra, in cui l'immagine finale è un ritaglio di ciò che interessava Fontana. O anche di questa foto scattata con il teleobiettivo New York nel 1981, in cui Fontana ha ritagliato solo la parte che gli interessava. Il concetto del cancellare per eleggere è alla base di tutto il lavoro di Fontana. Nel suo foto di paesaggio sono l'emblema di questo concetto. Dice infatti, solo cancellando, tagliando, eliminando, sintetizzando, andando alla ricerca dell'essenza delle cose, sono riuscito a intercettare quello invisibile che mi ha permesso di dare significato alle forme che ho fissato nelle mie fotografie. In queste foto, usando il teleobiettivo, che esaspera la bidimensionalità e annula la prospettiva, è riuscito a creare una situazione che l'occhio non è abituato a vedere. Fontana presta attenzione allo spazio e spiega che nella fotografia non conta lo spazio in sé, ma le relazioni tra i soggetti e le cose. Sono le relazioni tra le cose a permetterci di creare il contenuto, non la vastità dell'area che stiamo inquadrando. Le foto della serie Asfalti esprimono bene questo concetto. A conferire senso alle immagini sono i rapporti tra i vari segni grafici. Quindi nell'inquadratura non conta quali cose compaiono, ma i rapporti tra di esse. Altra questione interessante è quella sul verso, sulla scelta tra formato orizzontale o verticale. L'inquadratura orizzontale è più ampia, rilassata, distesa, radiosa. L'occhio può spaziare ed esplorare l'orizzonte. Invece l'inquadratura verticale limita, schiaccia, costringendo chi guarda in uno spazio più ridotto. Altro concetto è quello che non bisogna cercare di riportare la realtà per quella che è, ma offrirne un'interpretazione. Nel suo caso i colori sono diventati il soggetto dell'immagine. Fontana, in tema di colori, ha giocato molto sui contrasti. Per caricare di significato i colori bisogna lavorare sui contrasti, diceva. Il contrasto può creare armonia. A dare il significato a questa foto scattata in Puglia nel 1978 è proprio il contrasto tra due colori freddi, il blu del cielo e il verde delle campiture, e uno caldo, il giallo del campo in primo piano. In questo caso, la tenda rossa e verde dietro la panchina appartiene a una giostra. Franco Fontana l'ha fotografata nel 1977 in un Luna Park di Modena. Lo scatto funziona perché è una foto di pensiero, nella quale non c'è distanza tra linguaggio e contenuto. Il contrasto tra il colore rosso e il verde, due colori complementari, contribuisce a riempire l'immagine di significato. Anche in queste due foto, Fontana è riuscito a rendere i colori il soggetto delle sue immagini. Dopo aver analizzato la visione di Fontana, passiamo quindi alla parte degli esercizi, contenuti nel capitolo Tornare principianti, 11 esercizi per svegliare gli artisti che dormono dentro di voi. Franco Fontana tiene corsi di fotografia da oltre 40 anni e ha capito che il modo migliore per migliorare la creatività dei propri allievi è quello di spingerli a riflettere sul loro sguardo. Gli 11 esercizi proposti in questa sezione sono gli stessi che propone agli allievi dei suoi corsi. Sono esercizi molto utili per sperimentare cose diverse, trovare nuove idee e soprattutto per aiutare a trovare la propria identità fotografica. Nel libro non si parla infatti mai di tecnica, ma piuttosto di come provare a fare un salto di qualità, educando il proprio sguardo e trovando un proprio stile fotografico. Sono esercizi che aiutano a ragionare di più e porsi sempre delle domande prima di scattare. Aiutano a guardarsi dentro, a capire il perché si scatta e che messaggio vogliamo comunicare con le nostre foto. Secondo me è quindi molto importante non solo leggere il libro, ma fare gli esercizi. Per fare un esempio vi mostro il primo esercizio, quello del rosso, e vi rimando poi all'acquisto del libro per conoscere gli altri 10. In questo esercizio bisogna scattare una foto in cui il colore rosso diventi il soggetto principale dell'immagine. È un esercizio che serve ad esprimere un contenuto dal punto di vista del colore. Se copriamo nella foto l'elemento di colore rosso, allora l'immagine si stravolge, perde il suo senso dal punto di vista cromatico. L'obiettivo non è realizzare belle immagini, ma appropriarsi del colore per imparare a significarlo. Un esempio fornito per questo esercizio è questa famosa foto scattata da Fontana a Praga nel 1967. Vengono mostrate anche alcune foto scattate da alcuni allievi durante i suoi corsi. In conclusione, secondo me è un libro molto interessante. Tralasciando alcune parti un po' autocelebrative, il libro esprime bene la visione di Fontana e offre spunti secondo me molto interessanti per fare un passo avanti nel proprio percorso autoriale, per trovare la propria visione. Ho trovato poi molto utili gli esercizi. Il mio personale consiglio è di fare gli esercizi in gruppo, ad esempio in un circolo fotografico o con un gruppo di amici appassionati di fotografia. Nel senso che gli esercizi vanno ovviamente svolti individualmente, ma condividendo nel gruppo i propri scatti sarà possibile confrontarsi con gli altri, vedere come gli altri hanno interpretato il tema, ottenere consigli e critiche costruttive e quindi crescere a livello fotografico.